Un concept davvero molto estremo, nato dalla mente del giovane designer slavo Marco Lukovic, vincitore di un concorso organizzato da Peugeot, il Monster. Era privo di motore, trasmissioni e sospensioni, una specie di scultura dalla forma fluida aerodinamica, fortemente futurista. Un modo per sperimentare e per liberare la fantasia dei giovani designer.